Il primo giorno di scuola per Santiago e con Stefano Belen Rodriguez, il primo giorno di scuola per Santiago e con Stefano Il primo giorno è stato accompagnato in classe da entrambi i genitori. Si tratta di un importante traguardo per la crescita del bambino, per questo le due star hanno deciso di condividerlo proprio come una famiglia ancora unita. Per tutti e tre è stata unemozione incredibile, sia la showgirl che il ballerino hanno dedicato su Instagram una foto del momento esprimendo il loro amore per il piccolo Santiago. Entrambi con lo stile che li contraddistingue, l'ex coppia non è passata inosservata e la stampa lì ha subito ritratti proprio appena prima di entrare nella scuola. Un momento indimenticabile per Belen Rodriguez, Santiago a scuola. Appena il tempo di fare un pisolino in braccio al papà Stefano e per Santiago è arrivato il momento di sedersi sui banchi di scuola. Tutti e tre hanno varcato il cancello di una prestigiosa scuola internazionale, dove sono soliti portare i loro figli anche numerosi altri VIP. La scelta della scuola non è avvenuta di certo per comodità, dato che si trova piuttosto lontana da casa di De Martino, che ha impiegato addirittura un'ora per raggiungerla. Il piccolo Santiago dovrà abituarsi a svegliarsi presto alla mattina, per arrivare prima della campanella. Il ballerino e la showgirl si sono ritrovati quindi come una vera famiglia, ma questa volta non si vocifera di alcun ritorno di fiamma, quando piuttosto della condivisione di un momento speciale e decisamente personale, quale l'inizio della scuola del figlio. Su Instagram la foto con lo zaino nei corridoi di scuola ha spopolato in entrambi i profili, De Martino ha raggiunto più di 240 mila like e oltre 800 commenti, mentre ha superato i 280 mila like e anche lei più di 800 commenti che auguravano un buon primo anno scolastico. I rumors del ritorno di fiamma con Stefano De Martino. A inizio agosto si erano diffusi già alcuni rumors che volevano un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Alcuni indizi infatti lasciavano pensare che la storia con Annone potesse essere arrivata al capolinea, primo tra tutti, il ridotto numero di foto pubblicate su social che li ritraevano insieme. Il ballerino e la showgirl dovevano teoricamente essersi riavvicinati mentre erano a Ibiza, ma questi rumors sono stati subito smentiti dalla showgirl, mostrandosi di nuovo insieme al pilota di Motogp. E' certo però, che la rottura tra i genitori del piccolo Santiano, pur essendo arrivata come un fulmine a Celserino dopo soli tre anni di storia, non sia mai stata del tutto definitiva. I due sono in ottimi rapporti, come testimonia anche il fatto che fossero presenti durante il primo giorno di scuola del piccolo. I fans erano sempre in un loro ritorno di fiamma, ma per ora la showgirl sembra essere ancora innamorata di Annone e lui di lei, solo pochi giorni fa infatti, il pilota le ha dedicato una foto su Instagram augurandole un buon compleanno e dicendole che è la cosa più bella della sua vita. Grazie